Isola famosa, Valentina Vezzali prende una decisione dragonale. Un'isola dei famosi travolta dalle onde dell'imprevisto. La drastica decisione di Valentina Vezzali scuote i naufraghi punto nelle intricante giungle dell'Honduras, l'isola dei famosi ha recentemente fatto da palcoscenico a un tumultuoso susseguirsi di eventi. Nell'ultima puntata, forse destinata a rimanere impressa come la stagione della svolta, i naufraghi hanno assistito ad addi commoventi e arrivi sorprendenti. Tra la ritirata di Joe Bastianich per ragioni di salute e l'ingresso di tre nuovi concorrenti, l'equilibrio fragile tra i sopravvissuti è stato ulteriormente messo alla prova punto ma è stata Valentina Vezzali a rubare la scena, con una decisione tanto inaspettata quanto radicale. Le tensioni già palpabili sull'isola hanno raggiunto il loro culmine quando la campionessa, dopo una serie di screzi e una nomination imprevista, ha annunciato con fermezza, stop, ho preso la mia decisione in punto la Vezzali. Che da giorni si scontra con i compagni di avventura, ha optato per un isolamento volontario. Immutabile nel suo silenzio, ha scelto di astenersi dalle interazioni sociali e dalle attività di gruppo, come se volesse costruire un muro invalicabile intorno a se stessa. I suoi gesti, carichi di determinazione e forse di sfida, hanno gettato ombre di perplessità sui volti dei naufraghi, che osservano increduli questa nuova piega degli eventi.Greta Zuccarello, testimone privilegiato di questo tumulto emotivo, ha espresso la sua perplessità di fronte alla decisione della Vezzali, definendola un tentativo disperato di mostrare indifferenza, persino verso la fame che affligge tutti gli isolani. Le parole di Samuel Peroni e Matilde Brandi, cariche di preoccupazione e disapprovazione, si sono levate nell'aria umida della giungla, mentre l'Isola dei Famosi continua a essere il palcoscenico di una drammatica saga umana, fatta di ambizioni, rivalità e, ora, di una solitudine scelta. La decisione di Valentina Vezzali ha gettato un'ombra profonda sull'atmosfera già carica di tensione dell'Isola dei Famosi. Mentre i compagni di avventura cercano di decifrare il significato di questo gesto, ci si interroga sull'impatto che avrà sulle dinamiche del gruppo e sul destino della stessa Vezzali nell'avventura televisiva più estrema. Punto al di là delle dure parole di chi la accusa di permalosità o di chi tenta in vano di dissuaderla dal suo isolamento, si avverte nell'aria una sensazione di incertezza e di vulnerabilità. La Vezzali, solitaria come un'eroina tragica di fronte al proprio destino, sembra aver scelto una strada tortuosa e imperscrutabile, sfidando il buio della notte e la solitudine dei pensieri. Ma cosa porterà il domani sull'Isola dei Famosi? Sarà la Vezzali in grado di superare questa prova di isolamento e ritrovare il suo posto nel tessuto sociale del gruppo, o continuerà ad abbracciare la sua solitudine come un mantello protettivo? Solo il tempo, implacabile giudice delle nostre azioni, potrà rispondere a questi interrogativi. L'atmosfera sull'Isola dei Famosi si fa sempre più intensa, con gli occhi di tutti i puntati su Samuel Peron, ballerino di fama, al centro di un caso di gossip che sta facendo tremare le fondamenta dell'isola. Dopo più di un mese di permanenza in Honduras, i naufraghi hanno formato due gruppi ben distinti. Da una parte, c'è il gruppo guidato da Samuel Peron e Greta Zuccarello, con membri come Edo Il Cuoco e Matilde Brandi, e lì dall'altra, ci sono i cosiddetti ribelli, tra cui Artur De Inese, Cadi Gay e Valentina Vezzali e Rosanna Lodi, recentemente eliminata dal gioco. Tra le alleanze e le tensioni in gioco, è esploso un caso di gossip coinvolgente proprio Samuel e Greta. La questione si trascina da settimane, ma nell'ultima puntata ha raggiunto il suo apice. C'è stato qualcosa tra i due ballerini sull'isola? La bomba è stata lanciata da Rossana, che ha apertamente parlato di Televolas, i ballerinos. Prima di essere eliminata, Rosanna ha lanciato nuove accuse verso Greta, sostenendo che questa si sia avvicinata troppo a Samuel e abbia fatto commenti fuori luogo sulla sua struttura muscolare. Mi sembra una telenovela, ha dichiarato Rosanna, evidenziando la presenza dei rispettivi partner fuori dall'isola. Isola e il bambino di Samuel. Queste accuse hanno acceso una polemica che ha coinvolto anche Sonia Bruganelli, uno degli opinionisti in studio a Milano. Sonia ha richiamato Rosanna alla responsabilità delle sue parole, sottolineando il potenziale danno che possono arrecare alle famiglie coinvolte. Ha definito le affermazioni di Rosanna come l'idiozie, mettendo in guardia sul pericolo di creare problemi basati su supposizioni infondate. Greta, dal canto suo, ha negato fermamente qualsiasi coinvolgimento romantico con Samuel, sottolineando che i loro discorsi riguardavano esclusivamente la famiglia e la vita al di fuori dell'isola. Tuttavia, le tensioni restano alte e il caso di gossip continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Questo caso non solo ha scosso l'isola, ma ha anche generato un acceso dibattito tra i fan dello show, che si dividono tra chi sostiene l'innocenza di Samuel e Greta e chi invece crede nelle accuse di Rosanna. L'Isola dei Famosi si trasforma così in un palcoscenico per drammi, passioni e misteri che intrigheranno gli spettatori fino alla fine. Mentre il caso di gossip continua a tenere banco sull'Isola dei Famosi, i naufraghi si trovano sempre più coinvolti in una rete di alleanze e rivalità. La divisione tra il gruppo guidato da Samuel e quello dei ribelli si fa sempre più netta, alimentando il clima di tensione sull'Isola. La presenza dei rispettivi partner fuori dall'Isola aggiunge un ulteriore strato di complicazioni al già intricato scenario. Le parole di Rosanna hanno sollevato sospetti e tensioni, mettendo alla prova la solidità delle relazioni dei naufraghi al di fuori del contesto isolano.alcuni concorrenti, come Artur Deinese e Kadigeie, si trovano ora al centro di un dilemma morale, divisi tra l'amicizia e la lealtà verso i propri compagni d'avventura e la volontà di mantenere un certo distacco emotivo per preservare le proprie relazioni al di fuori dell'Isola.